Ciao ragazzi, sono Mattia Rockgod e ben ritrovati sul canale. Oggi vi porto la recensione di Seven Days of Rose, una bellissima visual novel in stile anime giapponese di genere romantic comedy, realizzata dai Cross Game Studios e pubblicata da Rata Laika Games sulle console PlayStation, Xbox e Nintendo il 4 novembre 2022, mentre gli stessi Cross Game Studios l'hanno pubblicata su Steam, quindi su PC, il 9 dicembre 2022. Il gioco ha come protagonista Michael, un ragazzo prossimo al diploma che si autodefinisce il ragazzo più noioso del mondo. Per un solo motivo, non ha mai avuto una storia d'amore seria. Lui preferisce studiare, andare bene a scuola, avere dei buoni amici e vivere la vita come viene, ma il suo sogno è fidanzarsi. Se non ci fossero i suoi genitori che rompono le scatole con lui in vacanza, infatti i suoi genitori sono in realtà un fastidio, infatti il nostro Michael cercherà in più occasioni di stare il più lontano possibile da loro. A partire dall'inizio della storia, infatti quando atterreremo in questa isola tropicale dove passeremo una settimana, lui praticamente se ne starà per i cavoli suoi mentre i genitori aspettano le valigie e incroceremo per sbaglio, perché ci verrà addosso, una ragazza dai capelli viola. La reincroceremo dopo, più avanti, quando avremo preso possesso della nostra camera d'albergo e la reincroceremo nel balcone opposto al nostro. Intanto la vista che si gode Michael è stupenda, mare, spiaggia, sole che spacca le pietre. Quando vediamo questa ragazza, Michael ovviamente si innamora a prima vista. La ragazza si chiama Rose, esattamente come la Rose del titolo. Attenzione però perché questa ragazza sembra tanto dolce e carina, ma in realtà nasconde dei segreti e starà a noi scoprire quali sono. Starà quindi a Michael sapere con chi ha a che fare e capire quali sono i segreti di questa ragazza. È una visual novel con dentro delle scelte, quindi dovremo fare attenzione quando ci verrà chiesto di farne una. Ci sono sempre tre opzioni a nostra disposizione e attenzione perché le scelte non sono tutte immediate. Talvolta dovremmo stare a rifletterci un po'. E attenzione ancora una volta perché le scelte hanno un punteggio. Non è visibile a schermo perché lo sviluppatore è stato molto furbo, in quanto in base a come ci comporteremo con Rose avremo tre finali, uno positivo, uno negativo e uno neutrale. Infatti le scelte valgono o un punto, o meno uno o zero. I requisiti per sbloccare i finali sono i seguenti. Dovete avere ottenuto un punteggio di 30 o superiore per il finale positivo. Se è meno di 30 ma più grande di 22, quindi in questo caso anche se arrivate a 29 avete comunque il neutrale in questo caso, mentre sotto 22, quindi presumo se arrivate a 21 o anche meno, avrete quello negativo. Io al momento attuale ho sbloccato solo un finale su tre, quindi sarà mia premura giocare il gioco altre due volte per sbloccare gli altri finali. Introduciamo uno dei difetti del gioco, gli achievement. Ce ne sono solo 15 e sono tutti ottenibili durante un gameplay, in quanto sono obiettivi diciamo diretti. Avrei gradito un obiettivo per ognuno dei finali, quindi in questo caso 15 più 3, 18. Anche su PC stesso identico discorso. Un altro difetto riguarda il riconoscimento visivo del finale, cioè non ci viene detto neanche con mezza frase che finale abbiamo sbloccato, quindi dovremo intuirlo noi, ok? E poi l'altro difetto che per me è il più grave ed è un difetto di tipo tecnico è l'input lag durante le conversazioni. Mi è capitato in diverse occasioni che quando premevo il tasto A per avanzare nella conversazione l'input non venisse registrato dal gioco. Se premevo un'altra volta A, quindi una seconda volta il tasto A, il dialogo andava avanti. Quindi è come se il gioco fosse impossibilitato a registrare questo input ed è una cosa molto grave perché negli altri tanti giochi che possiedo sulla mia console il mio pad non mi ha mai dato problemi ma soprattutto gli input lag non ci sono mai stati. Quindi in questo caso ho fatto una verifica, il mio pad funziona alla grande quindi è un problema del gioco. Ho segnalato la cosa agli sviluppatori e hanno detto che avrebbero dato un'occhiata e mi auguro che per loro il bug ci sia perché se l'ho visto io ci deve essere pure per loro. Sarebbe bruttissimo vedere il contrario, cioè che per loro di bug non ce ne sono. Mi sembra anche una cosa buffa perché il gioco su console è uscito direttamente in versione completa e non ha mai avuto patch, su PC ne ha avuta una perché gli obiettivi non si sbloccavano, quindi consiglierei per il prossimo titolo un po' più di attenzione durante lo sviluppo. Graficamente il gioco è un tripudio esagerato di colori, ogni sfondo è più bello dell'altro, quindi veramente complimenti per la paletta artistica, è davvero incredibile. Tecnicamente il gioco si muove usando il motore Rampi che sapete è un motore che può spesso dare problemi ma in questo caso nel gioco di problemi non ce ne sono. Animazioni fatte bene, personaggi ben animati e caratterizzati, peccato solamente per la lingua inglese. Infatti per me non è stato un problema perché sapete che per me ormai è una cosa molto scontata giocare a giochi che non sono stati tradotti e le visual novel purtroppo sono un genere che raramente viene tradotto. In questo caso Seven Days of Rose è stato sviluppato mi auguro con un budget discreto perché la qualità delle immagini è buona, quindi magari hanno puntato tutto su qualità e immagini e personaggi e non su traduzioni ulteriori, ma ripeto per me non è un problema giocarlo in inglese, tanto l'inglese usato è comunque comprensibile. Magari potrebbe risultare leggermente faticoso per chi non mastica la lingua. Il peso del gioco è davvero molto molto basso, qualche centinaio di mega, questi giochi raramente pesano tanto e poi abbiamo il menu principale che mi ha colpito molto sia per l'immagine sia per la musica. La musica la sentiremo durante i finali ma la cosa bella è che l'immagine del menu principale è un'immagine simbolo, quindi non vi posso dire altro su questa immagine. Se vorrete vedervi il trailer del gioco ve lo metto in descrizione, viene direttamente dal canale YouTube della Rata Laika Games e sin dal trailer il gioco mi ha colpito, quindi da quel momento lì l'ho messo nella mia lista di esideri dello store di Xbox e poi prima o poi l'avrei comprato. E così è stato. Un peccato per questi due o tre difetti che ho segnalato, che ho riscontrato, specialmente l'input lag che mi auguro venga risolto. Bene, direi che abbiamo finito qui. Il voto per questa visual novel è un 8 barra 9 ed è un peccato perché se non ci fossero stati quei due o tre difetti riscontrati un 9 pieno se lo sarebbe preso, ma 8 barra 9 direi che è un voto più che adeguato. Noi ci vediamo alla prossima recensione, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto fatelo e poi mettete la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche su tutti gli altri link in descrizione, compreso server Discord e se volete supportare il mio canale con una donazione tramite Paypal.me il link lo trovate sempre qui sotto. Ragazzi noi ci vediamo alla prossima recensione e al prossimo video. Ciao!